Stasera è un po' una serata speciale per noi perché recentemente è accaduto una specie di terremoto all'interno della nostra band e due membri su quattro ci hanno abbandonato e faccio le virgolette non a caso per differenti motivi differenti e non da meno anzi in ordini di tempo è vero anche io mi hanno ingannato anzi non di tempo avrei dovuto dire prima un insospettabile personaggio come Stefano e quindi ci sono in sostanza ci sono due anziani che siamo io e quel pazzo là dietro quello che fa tupa tupa e loro due che ancora non sanno quello che succederà veramente stasera siete voi che dovete dimostrarglielo quello che succede veramente provateci almeno un attore dei net su Eppel in hard to none Oh, this is a nature This is me, I'll sing this night You are your voice, your mission is going short You are my death, I'll sing this night You are my voice, your tongue, the crystal is dry This is me, I'll sing this night Grazie a tutti